riprendiamo il discorso essendo mancino il mio dito va a sbattere sul pulsante chiude il video quindi purtroppo c'è questo problema noi mancini abbiamo questo problema che le cose sono predisposte per i destri e quando vengono nelle nostre mani creano problemi riprendiamo il discorso la statua sarebbe stata a filignano secondo me dal 1943 44 al 1964 per 20 anni prima no perché dicevano tutti che era giunta in paese a filignano al momento del fronte al momento della guerra del fronte bellico ebbene questo santuario di acqua fondata è poco conosciuto si parlava della statua ma non si diceva più di tanto si parlava di alessandro coia che l'avrebbe che avrebbe offerto quella che l'ha sostituita che poi l'immacolata ma non si parlava più di tanto invece oggi grazie a dio abbiamo scoperto che qui vi è stata una apparizione qui ad acqua fondata l'apparizione della vergine del monte carmelo che secondo me è ignorata dalle stesse famiglie che stanno giù nel venafrano è ignorata e poco conosciuta di questo culto non se ne parla affatto non ne ho mai sentito parlare abbiamo tante dicole nel nell'alto voltuno dedicate alla madonna del carmine ma non c'è connessione con questo santuario altrimenti il 16 di luglio se ne sarebbe parlato il 16 di luglio di questa visione se ne sarebbe parlato e ci sarebbe stato il pellegrinaggio qui in questa chiesa come avviene per esempio a forli del sanio a cero a volturno per la madonna della val lisbona invece qui accanto a questi paesi limitrofi nulla di tutto ciò è da premettere che filignano selvone sono diocesi di venafro come lo furono appunto acqua fondata viticuso e casal cassinese cerasuolo e pantano invece erano diocesi di monte cassino ma queste due diocesi si sono all'epoca nel nel passato si sono sempre intersecate queste diocesi di monte cassino e isernia venafro con san vincenzo a volturno tutto l'alto volturno era di monte cassino poi è passato in quel 1977 con isernia e bene acqua fondata è stata diocesi di venafro fino al 1977 quindi questo questo culto dipendeva dal vescovo di isernia il riconoscimento di questo culto dipendeva dal vescovo di isernia venafro e non vi è stata una diffusione quindi lo dico con rammarico una cosa così bella storicamente la madonna del carmine venerata in venafro venerata in tutti i nostri paesi questa apparizione sarebbe stata bellissima a venire citata a venire considerata anche nella predicazione a venire presa in considerazione nei pellechinaggi nulla di tutto ciò sono 30 anni che sto in questo estremo lembo della diocesi di isernia venafro tra filignano e rocca ravindola e non ho mai appreso di questa non ho mai saputo nulla di questa apparizione grazie a dio oggi 11 di ottobre 2017 l'ho appresa e la divulgherò quale padre parroco quale padre predicatore la divulgherò fra la nostra gente andiamo a fatima andiamo a megiugorie andiamo a tanti santuari dimentichiamo i nostri dimentichiamo castel pedroso e dimentichiamo anche la vergine del carmine di acqua fondata che poi richiama un comandamento così importante la santificazione delle feste giù a rocca ravindola a riguardo c'è l'altro aneddoto quella dell'aia di capriati giorno di sant'anna mil giorno di sant'anna l'anno imprecisato non si sa nell'anno nel secolo dei pellegrini si regavano in chiesa dei pellegrini dei cristiani dei devoti si regavano in chiesa per la festa di sant'anna il 26 luglio e dissero ad un uomo che stava trebbiando sull'aia con la sua famiglia perché non viene in chiesa perché trebbi oggi oggi è sant'anna e lui blasfemo iniziò a dire all'asino al cavallo agli animali che aveva per trebbiare avanti sant'anna avanti sant'anna ai noi ar sant'anna cioè ar cammina isch fermati nella nostra nel nostro dialetto e diceva ar sant'anna cioè cammina sant'anna riferendosi alla alla povera bestia e tutti narrano che sprofondò l'aia con lui e con tutta la famiglia e gli animali è un aneddoto noi non sappiamo la storicità l'autenticità storica però sta a significare che i contadini della zona di venafro di rocca ravindola il giorno di sant'anna non lavorano nei campi non trebbiano e non fanno altri lavori tramandandosi questo aneddoto invece l'aneddoto qui di acqua fondata pur essendo ai confini pur essendo un tempo la stessa diocesi quindi avendo avuto lo stesso vescovo la stessa curia diocesana di questo fatto di dell'apparizione di acqua fondata nella nostra terra nelle nostre parrocche non vi è traccia non se ne parla in alcun modo e questo ci dispiace ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen vergine del carmine prega per noi